L'Italia e l'Europa, il nostro vicino lontano, è il tema al centro del corso del trentennio dell'Università Anteas, Associazione Nazionale della Terza Età Attiva per la Solidarietà. All'incontro d'apertura che si è svolto all'ex Borsa Mer ci sono intervenuti il vescovo Francesco Beschi, il professor Mauro Mazza dell'Università degli Studi di Bergamo, che ha tenuto una relazione sui diritti dell'uomo in Europa. Il segretario provinciale della CISL, Ferdinando Piccinini, l'assessore comunale ai servizi sociali, Leonio Caglioni, il presidente di Anteas, Giuseppe della Chiesa, il responsabile dei corsi, Mario Fiorendi. L'Università per Anziani era stata fondata dalla Federazione Pensionati della CISL, ma ora è un'iniziativa autonoma. Le lezioni raccolgono sempre molto successo, quest'anno gli iscritti sono 150. Monsignor Beschi nel suo intervento ha sottolineato l'importanza del conoscere per capire, Questo percorso finalizzato alla comprensione va proprio nella direzione di una rinascita. Non è semplicemente un tenersi vivi, ma attraverso la comprensione delle cose si ha l'opportunità di rinascere continuamente. Con questo spirito durante il corso si parlerà di ex Jugoslavia e Albania, di Norvegia e paesi scandinavi, di Ucraina, ma anche del risorgimento italiano a Bergamo e della condizione degli anziani nella nostra provincia. Le lezioni si terranno ogni giovedì fino al 10 maggio.